Signore buongiorno, qui invece ci troviamo alla zona dei Carabinieri, perché questa qua è la caserma dei Carabinieri, una volta si scrive vicino al cinema, vicino a Guastelli, poi si parla di spostare acqua negli anni 80, non ricordo male, queste sono le traverse che poi portano pure al Campobuario, e noi invece andiamo verso la caserma dei Carabinieri, ecco qua, vedete, ecco qua, fuori di fronte a noi, questa è la caserma dei Carabinieri, poi spuga anche dall'altra parte, verso lì, questa cosa l'ha esponita, ha il senso unico, qua invece giriamo, andiamo verso la carriera, andiamo con l'abisso e facciamo vedere quest'altro tratto di fondi, adesso giriamo di qua, perché la carriera la faremo la prossima volta, passiamo di qua, perché c'è una visuola meravigliosa del castello, veramente bella, adesso lo vedrete in lontananza mentre ci avviciniamo, guarda che bello, vedete in lontananza, è bellissimo, guardate, è veramente meraviglioso, noi ci premiamo qua anche per riuscire a fare meglio la foto, cerchiamo che va via la macchina, bellissimo, ecco qua, quindi siamo nuovamente di fronte a Piazza Portapescovo, ci abbiamo fatto anche un certo piccolo pezzo di fondi che magari neanche i fondi anni lontani neanche conoscono, ecco qua, ciao!